Sentite questa voce? La sentite questa voce? Lo sapete cosa dice? Ma è il nostro Flavinsino! Il nostro Flavinsino! 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 5 4, 5, 5, 7, 8, 9, 2, 4 Non lo fate, non lo fate Numero solidale Numero solidale Per aiutare tutte le persone Meno fortunate di voi di voi che stanno lì a fare gli indovinelli e questo è vero alla faccia di tutti i poveri il nostro Flavinsinna viene sempre qui da noi e ci ricorda che dobbiamo essere più solidali guarda qua questa poltrona qua è una vergogna è una vergogna perché è la metafora della vostra vita ma perché? come perché? perché quando voi incontrate un poveraccio che fate? fate così beh girate non si muove ecco l'unica poltrona inchiodata perché? perché ci giriamo all'altra parte? perché? non ci avete il coraggio di andare dal poveraccio e dirgli al poveraccio guarda mi dispiace non ci ho gli spicci anzi voi fate pure la finta aspetta che lo trovo o ti ha beccato invece sai che fai? che fai pure la faccia di quello dispiaciuto ma che io? sì fai la faccia dispiaciuta eh? ah falso vedi falso vabbè me l'hai chiesta che sento questo io non lo faccio queste cose me l'hai chiesta e l'ho fatto c'hai ragione sì c'hai ragione tu utilizzi un altro metodo che metodo è tutto? l'ho visto a Roma a Biale Mazzini beh te i poveracci li vedi da lontano e che fai? fai finta di parlare al cellulare sì pronto pronto ma no ma non è vero ma non è vero sì non è vero lo fa 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 dico io ma chi te chiama? chi te chiama? soprattutto dopo sto programma diciamo ma chi te chiama? beh mia 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 tu mi chiami mia mamma ma mi ha chiamato due volte me la saluti me la saluti attacco attacco allora 4 5 5 siamo alla quarta puntata lo sappiamo tutti l'abbiamo veramente imparato tutti ma se lo cambia sempre che sappiamo tutte queste cose ma stessi è sempre diverso 4 5 5 ma basta ne va a stare via vincere sempre il senso 4 5 5 5 6 6 8 8 vincola sempre mambo punto 5 buona sera buona sera buona sera